amici di windows teca di nokio teca eccoci con una nuova video recensione oggi vi presentiamo il nuovo nokia lumia 630 che si presenta già alla grande perché ha un nuovo package una nuova scatola come potete vedere nokia ha deciso di ridisegnare le scatole dei suoi device e lo fa alla grande col 630 ma andiamo a vedere subito il contenuto della confezione che sicuramente la cosa più interessante dove troviamo il 630 nella colorazione completamente arancione sotto il cartonato in realtà non troviamo granché ma una guida rapida ridotta un po all'osso e il carica batteria carica batteria micro usb direi di andare a metter via tutto sto po di roba prendiamo il 630 eccolo qua e direi di analizzare il design che è molto molto bello sta molto bene in mano pesa soli 134 grammi tra l'altro la il materiale la qualità la fattura è davvero molto elevata come ormai nokia ci ha insegnato con i suoi device e ci ricorda molto il 1320 ecco qua un po come appunto impostazione del design della fotocamera e soprattutto per quanto riguarda la scritta nokia così sulla cover in policarbonato tutti e due hanno appunto la cover in policarbonato molto bello e soprattutto poco sporchevole questo arancione quindi anche questo aiuta particolarmente andiamo a vedere le caratteristiche tecniche partiamo dalle display display da 4,5 pollici è un IPS LCD clear black con una risoluzione di 854 x 480 pixel con una densità di 221 ppi il tutto è protetto da un vetro gorilla glass di terza generazione quindi possiamo tranquillamente lanciarlo in borsa senza problemi non abbiamo frontalmente la fotocamera e i due sensori di prossimità e luminosità e mancano anche come potete vedere i tasti di windows phone ma tranquilli che ovviamente ci sono sul lato destro invece troviamo il bilanciere del volume tasto di accensione blocca sblocca schermo e manca invece il tasto dedicato alla fotocamera sulla parte bassa invece troviamo l'ingresso micro sb mentre sulla parte alta l'ingresso per le cuffie lato sinistro completamente pulito sulla parte posteriore troviamo la fotocamera da 5 megapixel anche in questo caso senza flash led mentre può girare video a 720p a 30 frame per secondo quindi questa è la massima risoluzione l'altoparlante invece è stato messo qui nella parte bassa a destra quindi un unico altoparlante del terminale mentre andiamo a togliere la cover eccola qua cover che come potete vedere è rimovibile batteria da 1830 mAh mentre abbiamo l'ingresso micro sd e l'ingresso micro sd a fianco alla batteria alla batteria removibile ovviamente micro sim scusate micro sd micro sd che può essere da 128 gigabyte quindi supporta il 630 sd fino a 128 gigabyte che vanno ad aumentare la memoria già interna di 8 gigabyte quindi memoria di massa del 630 da 8 gigabyte 128 gigabyte davvero tanto quindi se immaginate tutte le cose che possiamo memorizzare anche perché il 630 ha la nuova versione del sistema operativo windows phone la versione 8.1 con l'ultimissimo firmware di nokia il lumea cyan questo ci permette di salvare foto video applicazioni podcast e via dicendo file dati sulla micro sd quindi immaginate con 128 gigabyte quante cose potete salvare davvero tantissime mentre si accende anche se ci mette davvero poco vi ricordo che ha un processore quad core da 1,2 gigahertz un qualcomm snapdragon 400 con 512 megabyte di ram gpu adreno 305 così le ho dette veramente tutte e intanto ecco qui che compare compaiono i tasti windows phone vado a inserire il pin mi raccomando non dito la nessuno ok siamo dentro a windows phone quindi al sistema operativo del 630 che porta tantissime novità ma direi di andare con ordine perché davvero di cose di carne al fuoco ce n'è tanta quindi preparate i pop corn state calmi che partiamo subito con la parte telefonica andiamo a chiamare il solito centro servizi e attiviamo il viva voce ok come avete sentito altoparlante che fa il suo dovere suona abbastanza chiaro si sente abbastanza bene quindi direi che non c'è nulla da sottolineare fa il suo lavoro dal punto di vista delle telefonate quindi in capsula e ricezione 630 che funziona molto bene anche qui nokia è una garanzia vi ricordo che il 630 ha il supporto alle reti gsm vcdma e ha la velocità internet hsdpa fino a 21 megabit per secondo ma la velocità internet la vedremo dopo ok andiamo a vedere ora i messaggi ovviamente dal punto di vista delle come si dice della ricezione non abbiamo avuto nessun tipo di problema siamo a milano come ripetiamo sempre andiamo a vedere la tastiera tastiera che ovviamente è un po' più piccola dato che quindi non sfrutta i 4,5 pollici già non li sfruttava prima ma in più con i tasti software di windows phone sfrutta ancora meno la grandezza del display ma tutto sommato non abbiamo particolari problemi di scrittura perché è precisa non è precisissimo il touch quindi spesso io ho avuto qualche problemino col touch proprio come feedback in realtà come appunto risposta da parte del touch alla digitazione o anche quando vado a premere questo è forse uno dei pochi problemini che ho riscontrato nel 630 ma se non vogliamo stare lì a digitare non preoccupatevi perché il 630 si va ad aggiungere a tutti quei dispositivi che adesso hanno la nuova tastiera swipe quindi ecco qua che anche il nostro 630 ci permette di eseguire lo swipe quindi avere la tastiera swipe per andare a scrivere ciò che vogliamo se sbagliamo comunque c'è la tastiera intelligente quindi il correttore che ci segnala le parole e ci permette di andare come sempre a comporre messaggi anche senza mai digitare o utilizzare lo swipe ok dal punto di vista dei messaggi direi che vi abbiamo detto tutto andiamo a vedere le email così continuiamo nel settore messaggistica andiamo a vedere come si comporta con le email html eccola qui questa è un'email classica di groupon che ormai arrivano in quantità industriali come potete vedere non abbiamo nessun tipo di problema di visualizzazione siamo sotto copertura rete quindi carica tutto sotto la rete scarica qui l'aveva già scaricate le immagini in realtà andiamo magari ad aprirne un'altra tanto come vi dicevo ce ne sono davvero tante andiamo a cliccare su scarica ecco qua e come vedete posso già tranquillamente leggere la mia email anche qui dal punto di vista email windows phone in realtà già sempre abituati benissimo e continua a farlo col 630 ok andiamo anche con office brevemente vi dirò che ovviamente abbiamo la possibilità di gestire i nostri file office sincronizzati con il nostro account one drive quindi possiamo portare dietro con noi come in questo caso come faccio io i nostri documenti per poterli appunto editare inviare personalizzare e via dicendo possiamo creare da nuovo word powerpoint ed excel eccoli qua e appunto salvarli sul telefono su scheda sd quindi anche in questo caso se abbiamo file pesanti anche come può essere un pdf o altri file pesanti possiamo salvarlo su scheda sd quindi davvero la memoria del telefono non viene intaccata e poi possiamo condividerli o salvarli su one drive comunque tutto sincronizzato con il nostro account one drive ok direi ora di parlare un po' della parte più multimediale del 630 quindi quella un po' più divertente dopo aver parlato della parte business quindi per tutti i businessmen che vogliono questo telefono direi di partire da un bel video quindi quando magari siamo in treno e vogliamo vederci un video possiamo farlo anche col 630 ovviamente supporta video in hd con quelli full hd non partono ha difficoltà a farli partire ma come potete vedere da questo video basta avere anche un bel hd per potersi godere il display da 4,5 pollici tra l'altro nelle impostazioni abbiamo profilo colori che ci permette davvero di settare il display e i colori come più ci è consono quindi come più ci piace e possiamo davvero ottenere degli ottimi risultati appunto stando lì un po' a giocare con i profili così quasi già che ne parlo ve lo faccio vedere velocemente così avete idea di che cosa sto parlando se andiamo nelle impostazioni nella sezione display abbiamo profili colori e qui possiamo andare un po' a giocare con la temperatura e la saturazione dei colori appunto per sfruttare al meglio questo IPS LCD Clear Black comunque come avete visto video in hd che non laggava non aveva problemi ricordo abbiamo un processore quad core da 1,2 GHz ok continuerei con la musica a questo punto andiamo in Nokia Mix Radio andiamo sulla musica anche in questo caso salvata sulla SD e andiamo a sentire come lavora la cassa del terminale ok come avete sentito anzi no vi faccio sentire ancora un attimo ho voluto farvi fare questa prova perché appunto l'altoparlante come avete sentito funziona bene, chiaro, anche forte ha al massimo del volume non distorce troppo la canzone l'altoparlante però messo in questa posizione ha una lama a doppio taglio nel senso che in questo caso che la superficie è completamente liscia si ha quasi un aumento di volume quindi diciamo che la posizione favorisce il suono ma su superfici un po' meno magari lisce che magari vanno a ostruire ovviamente il buco del foro scusate del nostro 630 ovviamente ne fa risentire dal punto di vista della qualità ma sapete cosa vi dico avendo un bel Gorilla Glass 3 potremmo anche tenerlo così e il gioco si risolve comunque già che stiamo parlando del volume vi dico che sempre con Windows Phone 8.1 abbiamo finalmente la possibilità di gestire separatamente i suoni delle notifiche e dei file multimediali quindi abbiamo possibilità di gestire i due volumi quindi delle canzoni, dei file multimediali e delle suonerie e delle notifiche quindi anche questo è un'implementazione molto interessante in Windows Phone 8.1 tra l'altro avete intravisto la zona notifiche dove abbiamo 4 tasti personalizzabili quindi dei tasti ad impostazione che ci permettono un accesso rapido all'impostazione che scegliamo quindi in questo caso noi abbiamo wifi, bluetooth, fotocamera e la gestione della luminosità e poi abbiamo proprio la zona notifiche quindi qua ci verranno le notifiche delle applicazioni di email, di sms, di chiamate che possiamo appunto avere sotto mano quando magari ce le perdiamo andiamo nella zona notifiche e avremo la nostra notifica pronta per essere letta e appunto visualizzata ok continuiamo sempre dal punto di vista multimediale come vi dicevo processore quad core che ci permette di utilizzare il 630 ovviamente anche per giocare abbiamo però un piccolo piccolissimo handicap della RAM essendo da 512 MB non ci permette di avere accesso completo ai giochi ma diciamo che è proprio una sezione limitata andiamo a vedere un gioco che conoscete bene che facciamo spesso partire sui terminali Windows Phone che è Zombie Tsunami che ci piace perché mette alla prova i telefoni e vedremo che anche col 630 non abbiamo nessun tipo di problema vado ad abbassare un po' il volume prima che parta a manetta eccolo qua ecco qua come vedete non abbiamo problemi scusate era un attimo assorto nel gioco comunque non abbiamo problemi giochiamo tranquillamente non abbiamo lag ecco ripeto mi allaccio ancora un attimo al discorso dei messaggi l'unica cosa è un po' il touch che soprattutto quando si gioca ripeto non è sempre preciso bisogna magari premere con un po' più di forza rispetto ad altri terminali e ad altri display ma non è nulla assolutamente di grave anzi ok quindi anche dal punto di vista giochi abbiamo possibilità di scaricare molti giochi disponibili per le RAM da 512 MB direi di andare allora a vedere ora di parlare di fotocamera fotocamera da 5 megapixel senza flash LED ma che comunque anche di notte si comporta bene adesso appena deciderà di ecco qua di aprirsi probabilmente c'ho un sacco di applicazioni aperte per quello poverino fa anche un po' fatica perché con infatti come potete vedere abbiamo un po' di roba aperte facciamo magari un po' di pulizia va che così almeno evitiamo di stressare questo povero telefono che ripeto ha 512 MB di RAM quindi non si può pretendere il mondo ok tornando alla fotocamera dicevo che non ha il flash LED ma anche di notte si comporta benino intanto come potete vedere abbiamo la classica impostazione di Nokia Camera che ci permette di avere un approccio pro alle impostazioni quindi davvero possiamo anche con il 630 rientra gestire luminosità, tempo di esposizione scusate bilanciamento del bianco e via dicendo ma come potete vedere non possiamo ovviamente sfruttare l'iconcina del flash abbiamo comunque anche tutte le impostazioni automatiche che devo dire funzionano molto bene ora entriamo nella galleria con il link rapido e vi farò vedere alcune foto che ho scattato al mare col 630 come potete vedere la qualità non è affatto male e anche al computer si può notare la qualità del risultato certo qui anche la giornata aiutava ma il 630 davvero non si è comportato male di notte eccolo qua il risultato qui eravamo ripeto in barca senza luci attorno al telefono tutte le luci erano nelle case e questo è il risultato quindi la elaborazione fotografica scusate la elaborazione fotografica del telefono con la modalità notte devo dire che funziona molto bene ovviamente nel momento in cui andiamo ad eseguire uno zoom soprattutto al pc il rumore c'è ce n'è davvero tanto però tutto sommato non avendo il flash devo dire che è un risultato assolutamente accettabile ovviamente il discorso cambia quando giriamo un video di notte purtroppo si vede bene poco è lo stesso quando vogliamo magari fare una foto da vicino ad un oggetto senza appunto particolari luci vicine all'obiettivo di giorno invece sia video che foto vengono molto molto bene ricordo che i video possono essere girati solamente in HD a 720p è la risoluzione massima come i frame che sono 300 scusate 30 frame per secondo comunque tutti i video che abbiamo e le foto che abbiamo eseguito con il Lumia 630 ovviamente non tutte le migliori le abbiamo già postate in un articolo sul nostro blog quindi se siete curiosi di visionare le foto sul vostro computer andate e cercate l'articolo dedicato proprio alle foto e ai video girati col 630 volevo farvi un attimo vedere le impostazioni per farvi vedere le impostazioni del video perché abbiamo possibilità di scegliere anche i frame per secondo del video in HD ok come vi dicevo all'inizio manca la fotocamera frontale quindi questo non ci permette appunto di utilizzare la fotocamera frontale ma appassionati di selfie non preoccupatevi perché potrete immortalare il vostro bel viso anche col 630 come vi dicevo Nokia qui col 630 ha giocato molto d'astuzia quindi ha tolto un po' di cose ma ha dato comunque possibilità agli utenti di non sentire la mancanza dei sensori o della fotocamera appunto che non ha implementato nel 630 perché? perché con l'applicazione proprio di Nokia Nokia Glammy si potranno eseguire bellissimi selfie da soli senza l'aiuto di nessuno grazie a dei 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 suoni ecco infatti grazie alla modalità in Nokia Glammy nel momento in cui andiamo ad aprire l'applicazione potremmo girare il nostro bel telefono e andremo ad muovere il telefono finché non sentiremo un suono acustico quindi una specie di suono tipo quello del sensore di parcheggio delle macchine nel momento in cui sentiamo questo suono acustico vuol dire che la fotocamera ha immortalato o comunque ha a fuoco il nostro viso dobbiamo in quel momento allora sorridere e prepararci allo scatto che avverrà sempre in automatico quindi noi non dobbiamo assolutamente far nulla io adesso ho scattato la foto perché comunque si può scattare anche semplicemente in questo modo ma ovviamente non si ha la certezza di di prendere il nostro viso nella maniera più corretta col segnale acustico invece sapremo che il nostro viso è bello inquadrato quindi brava Nokia che ha trovato questo stratagemma purtroppo però non ha trovato uno stratagemma per Skype infatti anche molti utenti ce l'hanno segnalato molti utenti che hanno già acquistato il 630 purtroppo Skype sul 630 non non ha senso di esistere dal punto di vista delle videochiamate perché non avendo la fotocamera frontale le videochiamate sono quasi impossibili ovviamente bisogna si può farla tenendo girato il telefono ma a quel punto non vediamo l'altra persona quindi ripeto non ha molto senso di esistere si può utilizzare come un qualsiasi qualsiasi chat per messaggiare e risparmiare qualche soldino e per ovviamente le telefonate con il credito Skype ok andiamo avanti a questo punto direi di parlare dei vari sensori visto che abbiamo parlato della mancanza della fotocamera frontale direi di continuare con le varie mancanze partendo dal sensore di luminosità anche in questo caso Nokia ha trovato diciamo un modo per gestire la luminosità cosa succede se andiamo sempre nelle impostazioni troveremo ovviamente la sezione dedicata alla luminosità con i tre livelli che sono basso medio ed alto abbasso adesso un attimo ecco perfetto così si vede meglio basso medio ed alto ovviamente come potete vedere non c'è la possibilità di attivare la luminosità automatica una volta selezionato però il livello che vogliamo impostare basterà tornare nella sezione display che vi ho fatto vedere prima e sotto profilo colore troveremo profilo luminosità in questa sezione possiamo gestire la luminosità del profilo che abbiamo attivato quindi in questo caso del profilo bassa e come potete vedere possiamo decidere noi quanto basso deve essere la luminosità secondo i nostri criteri i nostri gusti per poter gestire gli altri due livelli quindi elevato e media bisogna andare prima a selezionarli nella sezione luminosità che vi ho fatto vedere prima quindi questo è come ha interpretato la luminosità Nokia sul Lumia 630 per quanto riguarda invece il sensore di prossimità qui è stata veramente ha giocato davvero d'astuzia andiamo a vedere un attimo nelle chiamate chiamiamo come prima il 119 perché non abbiamo il sensore di prossimità ma ovviamente abbiamo paura quindi che il nostro telefono non si spenga quando chiamiamo assolutamente no perché nel momento in cui il telefono sente più punti premere sul display ovviamente adesso non funziona ovviamente vediamo un attimo aspettate proviamo a richiamare ecco ovviamente il bello della diretta comunque nel momento ecco adesso l'ha fatto ecco nel momento in cui il telefono sente tre punti di tocco sul display ecco qua che si spegne quindi il telefono capisce che probabilmente c'è l'orecchio attaccato al display e quindi capisce che deve spegnere appunto il display e non tenerlo attivo se invece premiamo con un solo dito o anche due il display non si spegne quindi è proprio dalle due dita in su questo perché ovviamente dobbiamo avere la possibilità di poter toccare con un dito o con due per poter utilizzare i tasti che ci sono durante le chiamate quindi tre tasti si spegne un tasto due tasti non si spegne e brava Nokia che ha che ha trovato questo escamotage per appunto spegnere il display quando attacchiamo l'orecchio al telefono ok andiamo avanti continuiamo con nelle tante applicazioni che possiamo avere sul nostro 630 abbiamo ovviamente la possibilità di Nokia Gear Maps quindi possibilità di utilizzare il 630 come navigatore quindi una volta trovato il posto dove vogliamo andare possiamo attivare Nokia Gear Drive e utilizzare il nostro 630 come vero e proprio navigatore perché ovviamente ha il GPS assistito ok andiamo avanti andiamo a vedere ora un'altra cosa interessante che vi faccio vedere sempre nelle impostazioni adesso però direi che è il caso di aumentare un attimo la luminosità perché sennò proprio non si vede niente mettiamo media ecco ok andiamo in impostazioni ok perché vi volevo far vedere che ovviamente abbiamo tutte le novità come vi dicevo di Windows Phone 8.1 quindi abbiamo possibilità di scegliere una foto di sfondo da poter utilizzare come sfondo delle nostre tile come avete visto è già attivo e ovviamente è attivo per quelle tile che supportano questa nuova funzionalità abbiamo anche la possibilità molto importante di poter attivare la terza colonna di tile quindi nonostante 4,5 pollici di display abbiamo la possibilità di aggiungere una terza colonna di tile ovviamente rimpicciolendo le altre quindi qua è un po' gusti per esempio a me non piace tanto preferisco su questo telefono le due colonne e mi tengo diciamo le due colonne però sappiate che si può attivare questa funzionalità anche sul 630 poi abbiamo possibilità come vi dicevo di personalizzare la zona notifiche quindi i 4 link rapidi alle impostazioni possiamo personalizzare come vogliamo possiamo ovviamente personalizzare la schermata di blocco gestendo le notifiche nella schermata di blocco abbiamo possibilità di utilizzare il 630 come hotspot quindi condividere la nostra linea internet abbiamo angolo bambini quindi possiamo stare tranquilli se abbiamo qualche marmocchietto che vuole utilizzare il nostro telefono perché possiamo creargli una zona dedicata a lui ma soprattutto abbiamo sensore memoria sensore memoria è una impostazione molto interessante perché oltre a farci appunto vedere quanta memoria utilizziamo sia nel telefono che sulla scheda SD ci permette anche di gestire i salvataggi di cui vi parlavo all'inizio ovvero musica video foto nuove app e download quindi per ogni voce posso selezionare se salvarla sulla scheda SD oppure sul telefono andiamo avanti perché abbiamo anche proietta lo schermo che ci permette di proiettare lo schermo del nostro 630 su tv monitor o proiettori ovviamente compatibili con la tecnologia wireless questo è il miracast di nokia che appunto ci permette di visualizzare il display su questi dispositivi noi purtroppo non abbiamo nessun dispositivo che supporta questa funzionalità ma per voi siamo andati in un grosso centro di elettronica abbiamo provato e abbiamo effettivamente constatato che il 630 trovava tutti i televisori in quel caso che avevano compatibilità con questo tipo di tecnologia quindi funziona ok andiamo avanti perché c'è un'altra piccola chicca del 630 perché nokia ha tolto qualche sensore qua là ma ne ha messo uno in più che è dati di movimento dati di movimento è un contapassi quindi permette appunto ad applicazioni che sfruttano questa tecnologia la tecnologia del sensore di movimento e quindi di poter contare i propri passi appunto permette a queste applicazioni di utilizzare il contapassi che poi può essere può essere sfruttato in tantissimi modi come per esempio fa un'applicazione che è già preinstallata all'interno del 630 che è un'applicazione di che tra l'altro non so perché la vado a cercare quando ce l'ho tranquillamente sulla home è un'applicazione di Microsoft e di Bing infatti si chiama Bing Salute Benessere ed è proprio un'applicazione che sfrutta anche il contapassi e permette appunto di gestire l'alimentazione gli alimenti e via dicendo ok anche questo l'ho detto vediamo un po' cosa mi posso essere dimenticato beh ovvio l'internet quindi la velocità internet andiamo a vedere come si comporta sono sotto rete dati quindi non sotto wifi andiamo ad aprire il solito sito eccolo qua allora stiamo usando la nuova versione anche in questo caso di internet explorer che è la versione 11 che anche in questo caso apporta molte novità allora intanto vediamo il tempo di apertura delle pagine come avete visto davvero molto veloce ovviamente possiamo zoomare leggere alla grande il il testo scusate dopo un po' mi impappino anche io ecco qua come dicevo davvero una velocità molto buona per il caricamento delle pagine possiamo tranquillamente visualizzare in orizzontale e zoomare per leggere al meglio il testo dei nostri articoli ma se così non fosse ancora abbastanza chiaro perché ci sono come potete vedere un po' di fronzoli come pubblicità link vari con la versione di internet explorer abbiamo un'impostazione molto carina che ci permette e trasforma l'articolo in un testo vero e puro quindi toglie tutti i fronzoli e tutte le cose che possono impedire la lettura e lascia semplicemente il testo e le immagini tra l'altro ingrandisce le parole quindi risulta ancora più comodo poter leggere l'articolo prescelto in più possiamo altra novità andare indietro e in avanti semplicemente con uno swipe ora ero zoomato comunque con uno swipe ecco qua io posso andare avanti e indietro nelle pagine a seconda appunto di dove sono andato e di dove voglio andare quindi davvero ottimo anche dal punto di vista della navigazione e come vi dicevo anche molto veloce nel caricare le pagine e nella visualizzazione che comunque risulta utile e comoda ok quindi anche con internet explorer non abbiamo avuto problemi ok direi di adesso parlare del della batteria e di delle diciamo sparare le ultime conclusioni finali su questo 630 allora batteria da 1830 mAh che è una buona batteria che ci permette di arrivare tranquillamente a sera appunto non abbiamo avuto nessun tipo di problema ad arrivarci con un uso medio medio direi perché comunque non è che ci puoi fare grandi cose con il 630 dal punto di vista appunto dello smanettamento quindi tranquillamente a sera con un uso medio ci si arriva a me è piaciuto molto devo dire che è piaciuto molto perché perché viene proposto ad un prezzo davvero interessante infatti si trova a 149 euro è il prezzo ufficiale di vendita di questo 630 quindi tutto quello che vi ho detto prima lo si può avere a 630 euro sì vabbè a 630 euro magari no a 149 euro magari sì forse meglio 630 euro in effetti non sarebbe stato un grande affare a parte gli scherzi no ripeto un prezzo davvero molto interessante perché col sistema così fluido su questa fascia di prezzo Windows Phone è sicuramente il migliore ci permette di fare tutto di fare tutto abbastanza bene ovviamente ci sono alcune mancanze però abbiamo visto che Nokia è riuscita a mettere delle toppe diciamo fatemi passare il termine abbiamo solo l'impedimento così del 512 megabyte di RAM ma ripeto non si sentono neanche se non andiamo proprio a cercare l'unico gioco a cui serve magari più RAM le uniche note negative le vado a ribadire l'ultima volta sono il touch che come avete visto ogni tanto con me non è molto preciso e anzi alcune volte non ne sente proprio il tocco quindi bisogna andare a piggiare molto bene questo diciamo che il feedback non mi è piaciuto molto col touch e poi la fotocamera frontale per Skype e poi se vogliamo proprio essere pignoli anche l'effetto specchio ogni tanto dà qualche fastidio soprattutto sotto la luce diretta del sole anche in quel caso con la lettura sotto il sole non è delle migliori soprattutto col fatto del sensore di luminosità ogni volta dobbiamo andare a noi dobbiamo gestire noi manualmente la luminosità quindi diventa un po' troppo macchinoso poter leggere magari anche solo un sms sotto il sole per il resto ripeto un ottimo device ad un buonissimo prezzo quindi per questo prezzo il 630 è davvero un buon telefono direi che vi abbiamo detto tutto non direi che non devo aggiungere altro un saluto da Francesco Colonna per windowsteca.net ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti